Nessun aspetto, quindi all'unanimità abbiamo ancora approvati i singoli articoli di questo regolamento con votazione, il regolamento per il posto comunale propria nella sua complessità chi è a favore alzi la mano, grazie, che è contrario, nessun contrario, che si astiene e nessun aspetto, quindi anche il punto numero 5 è approvato all'unanimità siamo al punto